Non vedo l'ora di giocare a gioco di ruoli. Emily sta lavorando alla campagna da secoli. I personaggi sono pronti? 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 Non vedo l'ora di conoscere la regina Emily. I personaggi sono pronti? 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 L'imitatore ha fatto? E' un'ottot? E' un'ottot? Sì, sì. la mia corazza è messa male dopo l'ultimo scontro possiamo passare da un papro non 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.